I meravigliosi giochi d'acqua della Grotta degli Animali nel giardino della Villa Medicea di Castello, dove assiede l'Accademia della Crusca, sono tornati a zampillare come in epoca medicea grazie a un restauro finanziato anche dalla Regione Toscana e presentato nel corso di un evento a cui ha preso parte anche la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni. La grotta artificiale, progettata dal Tribolo intorno al 1540 insieme al resto del giardino, simboleggia il dominio illuminato del governo di Cosimo I dei Medici ed è dominata dai gruppi scultori e composti da animali nelle tre nicchie interne, un vero gioiello della struttura che fa parte del sito seriale UNESCO Ville e Giardini Medice in Toscana. Le ville Medice sono diventate, con un lungo lavoro della Regione Toscana, patrimonio UNESCO e poi appunto vengono sostenute attraverso la programmazione dei fondi strutturali del POR FESRE che vede come una delle linee centrali quella delle ville Medice. Inoltre sulla legge 77, che è la legge nazionale per i siti UNESCO, stiamo costruendo insieme a Fondazione Sistema Toscana un sistema appunto di comunicazione e valorizzazione di tutte le ville. La Regione ha finanziato l'intervento di restauro della Grotta degli Animali per un costo di 650 mila euro e un contributo del 70% con cui è stata data copertura ai lavori di completamento avviati dal Polo Museale della Toscana.